In collaborazione con Glam Vision e K. Fakli. Alla vis un mezzo si schianta con la gu contro il ponte e resta incastrato. Soccorso un quarantenne. Invece sul passo roll, incidente per un motociclista, 67enne, trasportato in ospedale. Fulmini e grandine in marmolada. Budel, non ho paura perché non sono solo voi, undici. Siete qui con me. Provinciali, il centro-destra dà mandato a Fugatti per ricompattare la coalizione, ma Fratelli d'Italia non arretra. Bene, ma nulla cambia rispetto a ieri. Il cosmologo trentino Matteo Maturi, fra i ricercatori della missione spaziale Euclid, grazie ad un telescopio, verrà realizzata la più grande e precisa mappa 3D dell'universo. Conteno, Ottavia Piana e Salva. La speleologa era bloccata in una grotta a 150 metri di profondità la domenica scorsa. Inviate squadre di soccorso alpino anche dal Trentino. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su GlamVision.it